se cerchi una ricetta da chef benvenuti nella cucina di masterchef se vuoi conoscere tante curiosità sul mondo del food e scoprire l'ingrediente segreto dei nostri concorrenti e direi che ce ne mettiamo un altro c'è masterchef magazine non si legge ma si mangia con gli occhi buon appetito dal lunedì al venerdì alle 19 e 30 su cielo